Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, signor Giancarlo Cancelleri. Ha giurato nelle mani del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il nisseno Giancarlo Cancelleri, deputato regionale che si è dimesso qualche giorno fa per approdare a Roma. Infatti è il Vice Ministro alle Infrastrutture del nuovo governo giallorosso. E il Vice del di Castero Retto da Paola De Micheli del PD. Ancora nessun incontro ufficiale, solo una telefonata. Ma da domani si comincia a parlare di deleghe. Emozioni, tanti posto dei suoi sostenitori, dei collaboratori. Il suo braccio destro, la fedele consigliera Milena Figura, lo seguirà sino a Roma al Ministero. E poi tante le attestazioni di stima di chi non è un 5 Stelle ma è figlio di questa terra. La soddisfazione di avere un concittadino al governo e con Giuseppe Provenzano sono due. Un ministro ed un viceministro assieme non è mai successo. Ma mentre Cancelleri gioisce arrivano già le prime richieste, ovviamente urgenti, quelle dei creditori della 640 che chiedono risposte certe per la ripresa dei lavori. Intanto Cancelleri apre al Presidente della Regione Nello Musumeci parlando di un incontro che potrebbe esserci nei prossimi giorni per discutere delle infrastrutture siciliane. In cima alla sua lista di impegni comunque la riapertura dei cantieri per il raddoppio della 640, impegno che si era anche preso il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Caltanissetta. Grazie a tutti.